Per combattere il frattamento Disculpire qualcosa per tra le famiglie Bisogno però ricevendenti Vabbè dalla sua posizione Che circa la tua vita Per quanto riguarda di femme Per quanto riguarda dalle Per quanto riguarda dalle Prama vi badare, prama vi zedare, prama menonam sraga mamma Adhita nabi, dunia bertamani, ayo, dunia braba mani, ayo Vastugur baka mengasalzo kelea, vastugur baka hoyo kelea Kappoya praba kato kan cimani, kan cimani, kato kan cimani, kan cimani Kappoya praba kato kan cimani, kan cimani, kan cimani Narawai, 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 wai, wai, wai Narawai, 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 wai, wai, wai Prama vi badare, prama vi zedare, prama menonam sraga mamma quando si muovete Non è un po' cosciuto non è un po' cosciuto solo non mi amo solo non mi amano più come costruiti non mi amano non mi amano non mi amano che toccan c'è mani che cerchè sarà bama figa ah buon sora bisokurba credo me hi azun s'amoni come n'ankar già ne zado nga come n'ankai bisaco zado nga come n'ankai her nienta zado nga prama vi padare prama vi zedare prama venenam sra kama oma bisano nare moni bisano nye nye nomeni babo burkina mamoni come n'ankar janazana come n'ankar bisaco zado come n'ankai her nienta zado nara vai 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 brama vi padare Isi stai, stai, stai